come mi mette in contatto con il pianeta terra ma ma che razza di storia è questa la mia valigia rosa ma mica avrà fatto il giro del pianeta questa valigia che succede in Italia non ci in Francia si, certamente si prove in Francia si arrivederci a lui saluto a me so • la tua valigia Oh maire da me fendono la valigia Se sova, letta do... Hey! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Ah no, y'all, y'all, y'all backai, y'all backai, y'all backai, y'all backai, y'all backai. Sì, sì, fronte, fronte una valeta roja. No, 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 red suitcase, I'm sorry, no, 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 not here, okay, all right, bye-bye, bye-bye. All operators are busy at this time. All operators are busy at this time. No, they want my love. Hoi, hoi, hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.